Oggi voglio prendervi per mano cari ragazzi e fare due viaggi. Un viaggio nella fede e un viaggio nella vita perché a distanza di pochi giorni celebriamo due feste, quella dell'Epifania, i magi che arrivano a Bethlehem alla grotta ad adorare il bambino Gesù e il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Allora vi prendo per mano e comincio con il viaggio della fede proprio dai magi. Sono partiti da lontano, si sono lasciati guidare da una stella, è la stella della fede che molte volte ci guida anche nel buio, hanno fatto tantissimi chilometri. Sono passati in una reggia da un re che era molto duro, forte, re Erode si chiamava. E quando i magi vengono da lui e gli dicono ma noi stiamo cercando il re dei giudei che è nato, lui si impazientisce, dice ma come re dei giudei, sono io il re dei giudei. E comincia a incuriosirsi, ad avere paura. Allora dice ai magi, sentite, voi andate a cercarlo, poi quando l'avete trovato venite da me e verrò anch'io ad adorarlo. Bugiardo! Non gliene importava nulla, voleva ucciderlo quel bambino e così farà con tanti bambini di Bethlehem e Gerusalemme. Quando i magi non passeranno più da lui a dirgli dov'è la grotta, dov'è nato il figlio di Dio. Ecco, vedete, nel viaggio della fede a volte ci lasciamo guidare da una stella e la stella a volte sono le persone che ci hanno educati, che hanno insegnato, che ci hanno comunicato la loro fede. Papà e mamma, un catechista, un prete, una suora, un animatore all'oratorio, un capo scout. Quante persone possono essere state proprio la stella che ci ha guidato a un cammino di fede per arrivare ad incontrare Gesù. E a volte, ragazzi, possiamo esserci anche fermati nelle regge di chi non gliene fregava niente di Gesù. E forse possiamo fare anche noi così. Diciamo agli altri, sì, vallo tu a cercare, eh? Dai, impara tu qualcosa a catechismo, dai, vai tu a pregare, dai, vai tu a messa, dai, dai, vieni poi a dirmi se è bello. Poi vengo anch'io, ma non me ne importa. Ecco, vedete, la stella si spegne quando facciamo così. Ma se la teniamo accesa, come i magi, allora continuiamo il nostro cammino e piano piano arriviamo ad una grotta e arriviamo all'incontro con Gesù. È il viaggio della vita. I magi ci ricordano questo. E ci ricordano che quando hanno incontrato Gesù, poi gli hanno offerto dei doni, cioè gli hanno dato la loro vita. Oro, incenso, mira, sì, erano i doni che avevano, ma il dono più bello era la loro adorazione. Allora, vedete, ragazzi, noi possiamo fare il viaggio della fede. Abbiamo bisogno di una stella che ci guidi, di persone che ci aiutino. Cerchiamo di viverle al meglio, non sottovalutiamole. Sono persone che hanno incontrato loro stesse la stella di Gesù e diventano un po' luminose per la nostra vita. Ci accompagnano. Lasciamoci guidare da loro come i magi. Ma la stella della fede ci porta ad un'altra stella, quella viva, vera, la stella di Gesù. La stella di quel bambino che nasce in una grotta. Ma non è solo un bambino, è il volto di Dio, la meraviglia di un bambino. Allora, ci aiuti il Signore a fare questo viaggio. Ma adesso ve ne propongo un altro, che parte proprio dal battesimo di Gesù. La vedete questa cartina? È una cartina che ci presenta un fiume che parte da quassù, dal monte Hermon. Questo è il viaggio della vita. Questo fiume, io sono andato lassù, ai piedi del monte, stava tutto in un bicchiere. Ho preso un bicchiere, sono andato alla fonte e quel fiume stava tutto lì. È un po' come la nascita di un bambino. Sta tutto in un bicchiere, è piccolo, è indifeso, ha bisogno di aiuto. Vedete, Dio è nato così. Noi che cerchiamo sempre un Dio che ci risolva i problemi, che appiani le nostre strade, che ci tolga tutti gli ostacoli, invece lui ci dice, mi dai una mano? Sono un bambino, sono fragile, sono piccolo. Mi dai una mano nelle persone che hanno bisogno? Ecco, vedete, da questo luogo il fiume Giordano parte e attraversa tutta la Galilea. Ci sono dei frutti bellissimi in Galilea, buonissimi. Aranci, banane, ananar, di tutto. Verdeggiante è la pianura. Ecco, quel fiume nasce come noi in un bicchiere, poi comincia a crescere, come cresciamo noi nella vita. Diventiamo ragazzi, passiamo dagli esseri fanciulli, bambini, diventiamo giovani e diventiamo sempre più grandi, sempre più belli, con sempre più forza. La vita è verde, è abbondante, è piena di cose, di esperienze da vivere. E arriviamo a questo lago. Il fiume Giordano si butta in questo lago. È il lago di Tiberiade, è 20 chilometri di diametro. ha tantissimi incontri da farci vivere. Cos'è questo lago? È il lago dei pescatori, è il lago dei sognatori, è il lago di chi va a vedere il tramonto alla sera, bellissimo. Cioè, è il lago dei nostri incontri, il viaggio nella vita. Arriva dei momenti in cui abbiamo tante persone. Lavoriamo, andiamo a scuola, facciamo sport, Abbiamo tantissime persone da incontrare. La bellezza della vita piena, bellissima. Ma questo lago, poi, se andate dall'altra parte, vede uscire di nuovo il fiume Giordano, che questa volta diventa un po' più piccolo e si inoltra nel deserto di Giuda e comincia a scendere sotto il livello del mare. È la vita che, piano piano, comincia a venire un po' meno. Andiamo avanti con gli anni, diventiamo grigi e bianchi nei capelli e nella barba come me. Cominciamo ad avere meno forze. Cominciamo ad avere più bisogno degli altri. Cominciamo a volte anche ad essere un po' più soli. Non c'erano più tutti quegli incontri, tutte quelle persone, tutte quelle cose da fare. scendiamo, piano piano, scendiamo fino alla fine della vita. Il Giordano si conclude nel Mar Morto. È un mare che ha 388 metri sotto il livello del mare. Stona un po'. Ci sono le montagne che fermano il mare, ma quel mare è sotto il livello del mare, di centinaia di metri. E soprattutto non ha niente, è morto. Lo chiamano così, perché è talmente oleoso che nessun pesce riuscirebbe mai a vivere. Pensate, non sono capace a nuotare. Io stavo a galla nel Mar Morto, riuscivo a nuotare. Guai se però l'acqua andava negli occhi. Uiii, che bruciore! Ecco, vedete, è il viaggio della vita. Dalla vita che sta in un bicchiere alla vita prorompente, gioiosa, verde, piena di frutti, alla vita piena di incontri, di lavoro, di scuola, alla vita che piano piano si spegne. Ma da quel Mar Morto c'è un piccolo monte, si chiama Masada. Io sono salito lassù, era mezzogiorno, ho guardato il Mar Morto e ho visto che evaporava. L'acqua, come vapore, saliva al cielo e mi sono detto la vita non si conclude nel Mar Morto. La vita sale al cielo e mi è venuta in mente la risurrezione di Gesù. Ecco perché Gesù si è fatto battezzare nel fiume Giordano. È il fiume della vita che ci ricorda che questa vita arriverà al momento in cui salirà al cielo all'incontro con Dio. Lo stesso incontro, ragazzi, che hanno vissuto su questa terra questi magi. Allora, ragazzi, un doppio augurio. Fate un bel viaggio nella fede. Lasciatevi guidare e prendere per mano dalle persone che vi vogliono bene e che credono in Gesù e vogliono farvelo vedere nella vita, con la loro vita. Farvelo incontrare, come l'hanno incontrato i magi. Anche passando da personaggi difficili, da situazioni difficili che a volte ci fanno soffrire, ma a volte sono degli indicatori. Non vogliono dirci che Dio non c'è, vogliono dirci cerca meglio e poi auguri per un bel viaggio nella vita. Quella vita che parte proprio dal battesimo che abbiamo ricevuto tutti. Vi ricordate che giorno era? Quel giorno del vostro battesimo? Andatelo un po' a chiedere a papà e mamma. Grazie a tutti.